Attrezzature e impianti Attrezzature e impianti è uno dei moduli che compongono la piattaforma Ars Evolution. Questo modulo vi permetterà di creare l'inventario di tutte le attrezzature e degli impianti presenti in azienda, classificati per tipologie e famiglie, e di archiviare tutta la documentazione tecnica collegata. Ogni attrezzatura o impianto presente in azienda avrà la propria scheda anagrafica riassuntiva di tutte le caratteristiche ed informazioni fondamentali. Nella sezione Caratteristiche, il tipo di attrezzatura selezionabile varierà in base alla famiglia di appartenenza. Per le attrezzature a pressione, avrete la possibilità di identificare in maniera automatica la categoria, inserendo le caratteristiche necessarie. Potrete caricare l'immagine dell'attrezzatura che state schedando importandola dal PC, oppure una sua foto appena scattata caricandola direttamente da cellulare o da tablet. Una volta creata la scheda anagrafica dell'attrezzatura, avrete la possibilità di pianificare le verifiche previste per essa. Ad ogni tipologia di attrezzatura scelta, sono associate diverse tipologie di verifica. La gestione delle scadenze consente di Definire la periodicità delle verifiche previste Indicare l'operatore incaricato Registrare l'esecuzione della verifica Inviare mail di notifica alert Allegare il rapporto di verifica Potrete generare un'etichetta con un codice QR code da applicare sull'attrezzatura. Questo vi permetterà di avere tutte le informazioni che la riguardano a portata di clic ed in qualsiasi momento. La sezione Attività vi permetterà di gestire in modo massivo tutte le verifiche di attrezzature che appartengono alla stessa famiglia e tipologia. Il documento che attesta il rapporto della verifica dopo averne definito l'esito può essere allegato ad ogni attrezzatura interessata cliccando su Assegna documenti. Tutte le scadenze saranno visualizzabili e facilmente accessibili anche dalla sezione Calendario.